www.feyyaz.tv Oppi. 8, 2, 3, 3, 4! Oppi è la vicina di Google, che è felice da farsi. Sì, come la mia assopata di un problema. Sì, come la mia. Ok, go up! Grazie, grazie a tutti! Grazie a tutti! Volei vogliamo salvare le notarie di un ragazzo! Sì, sì! Ok, go up! Ok, go up! Ok, go up! Grazie a tutti!